Un tema che è tornato ad essere di attualità, i comuni si sono riconfrontati, non solo dell'Aretino, ma insomma ci sono in ballo più regioni, più province. Questa stazione media Etruria, voi che opinioni avete? Io ritengo che la stazione media Etruria possa essere vista come una grande opportunità per tutto il centro Italia. Il centro Italia va visto in un'accezione molto ampia che riguarda ovviamente i territori di Siena, di Arezzo, di Grosseto, della vicina Umbria. Questo è naturale ed è evidente. È evidente che serve trovare una mediazione, un punto di incontro di interessi, di territori che devono iniziare a dialogare, provare a superare la propria costituzione provinciale in termini di confini e andare a individuare quelle localizzazioni che possono essere definiti migliori, non soltanto da noi come soggetti politici, da soggetti istituzionali, ma anche da poi chi quell'investimento lo deve fare, che è RFI. E credo che quindi serva un'attualizzazione di quel progetto che nel 2015 ipotizzò tre soluzioni, ma che a distanza di sette anni non hanno trovato una risposta. Lì si trattava di ipotizzare Chiusi Sud, Farneta o Rigutino. Nessuna di quelle tre proposte è stata mai presa in seria considerazione da RFI, che è ritenuta non idonea per uno sviluppo di un'area del genere. Io in queste settimane ho provato a mettere sul piatto della discussione una quarta ipotesi, che potrebbe essere una sintesi, una soluzione mediana, che può essere, diciamo, rispetto alla città di Arezzo, equidistante da Farneta. Cioè in macchina un cittadino di Arezzo impiega per andare verso sud lo stesso tempo che trova per arrivare a cosiddetto Montalese Nord, Casello, 5 km dopo Bettolle, fondamentalmente in direzione sud, sono sempre 20 minuti da Arezzo. Allo stesso tempo è sulla linea ferroviaria Chiusi Siena e quindi consentirebbe un'ontescambio ferro-ferro. È lungo la 1, a 20 minuti da Arezzo e di fatto neanche a 12 da Monte San Savino, a 5 da Val di Chiana. E nello stesso tempo, in prospettiva, potrebbe essere anche un ferro-ferro con Arezzo, qualora si riuscisse a integrare il collegamento dell'attuale linea ferroviaria Arezzo-Sinalunga, con la Sinalunga Chiusi, ovviamente dietro un quadro di elettrificazioni che in quel caso necessita soltanto di 20 km, perché questo snodo, diciamo, sarebbe molto vicino. Quindi, come Toscana del Sud, in un'accezione che ci ha visto insieme sulle aziende sanitarie, che ci ha visto insieme sui trasporti, che ci ha visto insieme rispetto al tema dei rifiuti, credo che si debba essere oggi in grado di proporre anche investimenti e infrastrutture nuove, rinunciando ciascuno di noi a qualcosa. Anche io sognavo, quando ero sindaco di Chiusi, di poterla fare nella mia città e se fossi di Arezzo sognerei di farla ad Arezzo. Tant'è che, infatti, negli anni siamo riusciti a trovare delle frecce rosse in più per Arezzo, e frecce rosse in più per Chiusi, e frecce rosse in più per Terontola. Ma se tu vuoi individuare e localizzare una grande infrastruttura ex novo, devi trovare un punto mediano che comunque consenta a tutti di riconoscersi.